Oikai di tutti i Zagare e Zagare, io sono Jinus39 E ci sono anch'io, Stone Oikai di tutti i Zagare e Zagare, io sono Jinus39 Oggi siamo qui in questo non vi smogliere solo World Games E siamo tornati nel server degli MCSG Dopo due settimane tornati nel server pieno di hacker, teamer, random teamer Mastrota che vende le pentole e i materassi scontati E siamo capitati nella mappa di merda Towerance Revolgames 3 E' la quarta volta che mi esce perchè sto registrando da due ore E ancora non sono mai riuscito ad arrivare al deathmatch ragazzi Rendetevi conto, mai arrivati al deathmatch Mai Non ci sono mai arrivato Mai Dammi l'arma, si, si, si Dai che, il corpetto, si Ho preso tutto Ho preso praticamente tutto Sono full In questa mappa l'unica cosa che bisogna fare è questa Per arrivare ad essere full Adesso questo qua se mi ammazza mi incazzo Devo ammazzarlo Che cazzo fa questo con la barca? Questo qua deve morire Pure questo c'ha l'arma Porco Crepa Bravo E andiamo via Ammazziamo prima questa però Ciao amica D'archettona Muori Perfetto Ottimo Ottimo direi Ottimo La partita non La partita non poteva che iniziare meglio E' da due ore che sto registrando ed è l'unica partita che mi è andata egregiamente se così possiamo dire Da due ore Ci metto due ore io a registrare i video dei survival games ragazzi Non capisco per quale motivo gli ultimi video non siano stati visti da moltissime persone Sono state viste da molto molte meno persone rispetto alla norma Questa cosa non la capisco spero che sia stata soltanto una roba di vacanze natalizie o roba del genere Comunque rieccoci qua sui MCSG e ESG Ovviamente sperando di arrivare al deathmatch in meno in questa partita perchè non ce la faccio più da due ore che sto registrando E perchè in queste due settimane non ho registrato sugli MCSG beh il motivo è molto molto semplice e basilare Come ben tutti saprete avevo il mouse rotto stavo usando un mouse da ufficio mentre aspettavo che mi arrivasse quello nuovo E quindi non potevo fare niente in sto server in pratica già non riesco con il mouse nuovo che è un mouse razer the father chroma L'unboxing l'ho fatto ieri se volete vedere ve lo vedete ve lo sul canale se no non ve lo vedete Però un video che vorrei che vedeste è il video delle UHC che è uscito mercoledì Sto qua è carino qua lo dobbiamo ammazzarlo ormai l'abbiamo visto l'abbiamo inquadrato lo dobbiamo ammazzarlo malamente La smetti di fare giro giro tondo mi fa girare la testa mori oh c'è pure un diamante quindi ho fatto bene a targhettarti Toh e rompimene i coglioni eri carino eri carino eri carino di qua eri carino di là oh Comunque si il mouse è un razor the father chroma e la mox l'ho fatto ieri se volete vedere ve lo vedete ve lo Se no non lo vedete comunque iniziamo a parlare del topic di quest'oggi ovvero la miniatura dei SG come avrete potuto leggere al titolo c'è scritto miniatura nuova perché miniatura nuova perché ormai questa miniatura che sto Utilizzando la uso dal ventunesimo episodio l'episodio numero 21 è da quasi più di metà anno che la uso e quindi volevo un po in Un'altra volta si fottono la mia barca porco il cazzo avessi delle frecce gliela avrei già spaccata bravo hai rotto la barca Che vuoi fare c'è un acciarino Non si vedeva che volevi mettere un acciarino eh stavi guardando in basso proprio eri timido volevi guardare lì bravo bravo sei molto bravo Che a parte mettermi l'acciarino quando io sono in acqua mi sembra un po una cosa inutile mettile in altro Dai che l'aspetto aspetto il tuo acciarino Vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua faccia mezz'ora madonna lizzo poposi lizzo 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 Invece di girarti provare a mettermi l'acciarino quando c'è l'acqua qua di fianco fatta ammazzare fai un'opera di bene grazie Tanto il cibo non mi manca a te mancherà sicuramente l'hai morto qualcuno quindi adesso appena ammazziamo qua il minion Andiamo ad ammazzare quello li Che cazzo Ma che sono se sprintate la smetti di laggare con la sopra vedo un tipo Ti fermi dai che palle quanto ranni Che cazzo scrivi f che vuol dire f Hai attivato volevi attivare le hack con la f di la verità di la verità che volevi attivare le hack Bravo apri le chest tanto ci crepi Se non l'aggassi così tanto magari amico non capisco che stanno tossando non ne riesco a capire Vieni qua Vieni qua E dai ma non mi fate fare tutti quanti il giro della morte per ammazzarvi Perché i miei hit non arrivano cazzo Fatevi colpire Oh Ti ci voleva tanto a darmi il tuo cappellino di merda Perfetto Posso farmi pure la spada di ferro adesso Oh Andiamo a vedere se là sopra c'è ancora il tipo Si ce ne stanno due Uno là e uno di là Perfetto Comunque dicevo topic Le miniature Non ne chiedo solo una degli SG Ma ne chiedo tre Perché noi siamo in due sul canale del giro in spettina e ne stone E quindi è giusto avere tre miniature Tre miniature degli SG Una dove siamo tutte e due se dobbiamo fare gli SG insieme Una dove ci sono soltanto io se ci sono soltanto io a fare gli SG E una dove c'è soltanto stone se c'è soltanto lui a fare gli SG Cosa che capita lo 0,1% delle volte Però potrebbe capitare E quindi volevo chiedervi Ragazzi voi sapete farle? Se le sapete fare fateci queste bellissime miniature degli SG Potete farle pure in maniera diversa Come vi pare a voi I rig di minecraft Se volete sapere il nome delle skin Il mio nome è genius39 underscore Per chi non sapesse cos'è l'underscore È il trattino basso Mentre il nome di stone su minecraft è stone snow Con le S grandi Questo qua destroy Aydar Dovrebbe morire Non vogliamo smettere di scappare tutti quanti Com'è che in questa partita sto trovando soltanto Nabbi Che vagano per lo spazio immenso E scappano da me Che poi guarda Mi fa le particelle E manco lo colpisco Però vabbè Prima o poi dovrei Oh Ce l'abbiamo fatta pure ad ammazzare te Ce l'abbiamo fatta Alleluia Finiamo sto acciarino Magari non addosso a me Cazzo E bruciamo sta merda Ok ragazzi Se sapete fare queste Le miniature con photoshop Paint Cinema 4D Quello che vi pare Fatecele E mandatecele sulla pagina facebook Se ci piaceranno le utilizzeremo Se non ci piaceranno Non le utilizzeremo Potete farne pure soltanto una delle tre Ad esempio qualcuno può fare soltanto Quella dove ci sono raffigurato solo io Qualcuno potrebbe fare soltanto quella dove c'è solo stone Qualcun altro solo quella Ci sono tutte e due Poi sceglieremo le quali ci piaceranno E le utilizzeremo Potete farle pure soltanto con Lo sfondo trasparente Che poi io ci devo mettere le mappe Va bene pure così Basta che c'è scritto minecraft su revival games E poi ci metto io il numerino Ovviamente Abbiamo detto tutto quanto Siamo rimasti in set Questa partita me la sento buona Abbiamo avuto una botta di culo allucinante all'inizio Ma dopo due ore di registrazione Volevo vedere se non mi capitava qualcosa del genere Spero tantissimo di arrivare al deathmatch Mi basta arrivare al deathmatch Perché non ce la faccio veramente più a registrare Sono alle 8 Ho iniziato alle 6 a registrare Devo editare il video Lo devo caricare Oddio ragazzi Veramente Registrare su MCSG da soli Per me È una cosa Mostruosa Quindi vi chiedo Seriamente di lasciare un mi piace Per supportarmi Perché non ce la faccio Adesso se fado il parkour qua Mi incazzo Ok siamo rimasti in 6 Si può sapere dove sono finiti gli altri Intanto potrei andarmene allo spawn E farmi bello bello Una spada di fer Ed è la cosa che farò proprio adesso Senza cadere nei buchi Perché mettete i buchi da tutte le parti Porca miseria Ho capito che vi piacciono Però Basta metterli ovunque Lo spawn è di là No Non lo so dove è lo spawn Sinceramente Non posso morire adesso Ecco là sopra uno O è una pecora No no è un full ferro Si è buttato Si è buttato nella cascata Potrei fare l'1v1 Non potrebbe essere quello Che ha ammazzato il tizio Non lo so Ho 5 frecce per spammarle Oddio Se muoio contro di lui Però è la fine La fine dei giochi Ah ma è ancora là sopra Pensavo si fosse buttato Ah non posso risalire Ok è morto È morto Non mi interessa Non andiamo contro di quello Non ci andiamo Non ci andiamo Aspettiamo il deathmatch Belli belli Alivelatamente E ci facciamo i cazzi nostri Per questi 50 secondi Forse di qua Di qua forse c'è lo spawn Zitti 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 Forse riesco a farmi la spada In 30 secondi Può darsi Non lo so Allo spawn c'è qualcuno Ditemi di no 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 Non sembra eserci nessuno Non c'è nessuno Ho 20 secondi per farmi la spada In ferro Fai veloce genius Fai veloce genius Fai veloce genius Muovi il culo Bravissimo Qualcuno si è craftato una spada Qua perché c'è una spada In legno in terra Boom fatta Perfetto Stiamo ce ne qui Allo spawn Vediamo se hanno lasciato qualcosa Magari della selce Così facciamo pure le frecce Quanto pare Non hanno lasciato un cazzo Perfetto Niente Siamo rimasti in tre Quello è messo Metà full ferro Cioè Metà full ferro Non si può sentire Metà ferro L'altro non so dove sia Ammazziamo te Che è pure affamato Ah questo qua è il full ferro Che abbiamo visto prima Facciamo team con quello va Questo qua mette gli acciarini a caso Si mette nei buchi Vabbè Contento lui Contenti tutti Ammazzato lui I fulmini Ammazziamo pure i Minerman qua Si Ho vinto Non ci posso credere Non ci credo Non ci credo mai Nella vita Dopo due fottutissime ore Sono riuscito A vincere Ok ragazzi Per questo video è tutto Se vi è piaciuto Mi piace Commentate Se vi è piaciuto Mi piace la pagina facebook Mi raccomando Se ci fate le miniature Commentatecele Sulla pagina facebook Tramite messaggio privato O tramite post Se ci piaceranno Metteremo il vostro canale In descrizione Quando le useremo Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao ragazzi